Oggi si parla di rete sentieristica, le Cinque Terre sono un po' il centro, sono quelle che hanno trainato tutto il territorio, però adesso c'è bisogno di parlare di sistema più ampio e che sia meglio collegato. Ma sì, i sentieri delle Cinque Terre sono famosi in tutto il mondo, sono trafficati, c'è pieno di gente, fare rete è una cosa importante, ma per fare la rete ci vuole anche della mobilità, non solo a piedi, ma anche della mobilità sostenibile. Io sono anni che sono un assertore di fare progetti di mobilità sostenibile, sono anni che parlo di car sharing, di auto elettriche. Bisogna avere il coraggio di organizzarci e di fare. Io sono per un turismo che sia inserito nell'ambiente, nella biodiversità, in mezzo alle nostre aziende agricole. Collegare le Cinque Terre con gli altri territori non è facile, anche perché i nostri sentieri sono abbastanza impervi, abbastanza lunghi. Quindi basti pensare che per andare dalla costa e arrivare ad affacciarsi, per esempio, su Ricocci, vogliono due ore, due ore e mezzo di cammino. Bisogna fare rete, ma la rete bisogna farla tutta assieme. Bisogna anche difendere le Cinque Terre, perché non vorrei che tutti poi facessero rete per le Cinque Terre, andassero a dormire di fuori e poi venissero da noi soltanto dalle nove di mattina alle cinque del pomeriggio e questo non va assolutamente bene. Siamo qua per discutere. Bisognava discutere magari qualche anno prima, adesso siamo un pochettino in ritardo, ma non è mai troppo tardi.